Buongiorno a tutti, iniziamo questa conferenza a Tampa. Prego, Sonia Lantella. Buongiorno mister, insomma ci siamo, finalmente si scende in campo, anche il Benevento. Come sta la squadra? Sapevamo insomma da indiscrezioni che c'erano stati insomma dei problemini per qualche giocatore. Può contare su tutta la rosa oppure qualcuno dovrà restare qui nel Sannio? No, beh, intanto insomma è bello ritrovarsi. Penso sia una grande iniezione di fiducia quella di poter ricominciare. I ragazzi hanno grande voglia. Quello che non possiamo sapere è quello che ci troveremo ad affrontare perché non so come sta la mia squadra. Io penso che stiano bene ma insomma non ci siamo mai potuti confrontare con una sosta di tre mesi forzata. E noi abbiamo cercato, ho cercato di tenerli a freno, soprattutto le prime settimane. Abbiamo avuto pochi allenamenti individuali per cui qualche problemino l'abbiamo avuto come le hanno avuto tutte le altre squadre dai convocati che vedo. Non avremo dei titolari, non avremo Viola e Letizia perché Viola ha preso una botta a un ginocchio e non ce la fa. Letizia ha un problemino muscolare, lui voleva provare ma in questo momento non mi va di rischiare nessuno. Gli altri più o meno stanno tutti bene, qualcuno è più avanti di condizione, ho dovuto gestirli un po', però sono sicuro che gli undici che andranno in campo, i cinque cambi saranno dei cambi importanti e ci daranno una grande mano. Speriamo di ripartire con un grande spirito. È chiaro che è impensabile poter sperare di trovare la squadra che ho lasciato perché la squadra che ho lasciato è una squadra che andava col pilota automatico, che vinceva sempre. Però piano piano dobbiamo cercare di tornare a essere quelli che eravamo, cercando di fare una grande partita perché giochiamo contro una squadra che è molto forte. In effetti la Cremonese di Bisoli è completamente diversa da quella affrontata dal Benevento all'andata, tra l'altro due vittorie su due per il neo allenatore. Che Cremonese si aspetta è soprattutto una curiosità che non deve essere necessariamente vittimismo. È meglio per il Benevento che arriva una Cremonese forse più stanca perché ha giocato tre giorni fa, oppure in un certo qual modo è un vantaggio per la Cremonese perché in questo caso giocare di più crea un rendimento sempre maggiore. Si è fatto un'idea? Che cosa pensa? Anche alla luce di quelle che sono state anche le partite in Coppa Italia, dove abbiamo visto comunque due partite per ogni squadra. Ma guarda in questo momento è tutto giusto ma non possiamo sapere la realtà. Non so se per loro è stato meglio giocare, aver già rotto il ghiaccio dopo così tanto tempo. O magari saranno un po' più... non lo so ma io gli altri li guardo poco, nel senso sono contento per Bisoli che conosco, è un amico ma non mi sorprende che la Cremonese abbia vinto a Frosinone, abbia vinto ad Ascoli. La Cremonese era quello che pensava dall'inizio di fare, mi sono sorpreso a vederla che all'inizio non ha ingranato. Adesso ha preso la marcia di una squadra che sarebbe andata sicuramente così in Serie A perché ha valori da Serie A, è una grande squadra, è una grande società. Però per noi è una bellissima prova, anch'io devo essere sincero, sono curioso di vedere i miei ragazzi perché io li vedo bene, li vedo con lo stesso spirito. Mi auguro che subito dall'inizio perdano, si lasciano andare, insomma io ho cercato di dirgli di andare a divertirsi. Comunque noi abbiamo a portata di mano un obiettivo straordinario, l'abbiamo quasi conquistato facendo delle cose incredibili, per cui vi ho detto stamattina che quando leggo i giornali, volevo usare un termine che sono così felice perché sono felice per loro, perché veramente quando leggo quello che scrivono dei miei ragazzi per me è la più grande soddisfazione. Per cui dobbiamo cercare di ripartire da lì, ci mancano otto punti per un sogno straordinario, dobbiamo farli il prima possibile. Abbiamo due trasferte complicate ma belle e le affronteremo a testa alta. Qualche anno fa un suo collega ebbe a dire una frase che poi è rimasta nei ricordi di tutti, mi riferisco a Garcia quando disse abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio, sembra quasi che finalmente si è ripristinata la realtà dei fatti, cioè questo Benevento che ha stradominato questo campionato. Le posso chiedere se c'è stato un momento nella fase di quarantena piena in cui ha pensato che probabilmente qualche gioco di palazzo potesse scipparvi di quello che legittimamente avevate conquistato sul campo? Devo essere sinceramente non l'ho mai pensato perché non c'è mai stato uno che non ha detto che il Benevento meritasse la Serie A. Questo ho cercato di far capire ai miei ragazzi che hanno fatto questo perché noi avevamo fatto qualcosa di impensabile, perché se avessimo avuto solo due punti di vantaggio sono sicuro che nessuno ci avrebbe dato così tanti attestati di stima. Quello che hanno fatto è qualcosa di straordinario, nessuno l'ha mai messo in discussione. Poi guarda sinceramente se c'è un giorno che ho pensato che non avessero fatto ripartire il campionato, ci avessero fatto rimanere ancora in B, il mio primo pensiero è stato quello lo rivenciamo alla stessa maniera. Per cui chiaro non sarebbe stato giusto ma ho una convinzione di questi ragazzi, di questa società che mi hanno trasmesso che mi faceva comunque stare sereno. Non sarebbe stato giusto ma sarei stato sicuro che avremmo ripetuto, chiaro forse così è impensabile, però avremmo fatto ancora quello che dovevamo fare. Dice sempre che il modulo lascia un po' il tempo che trova, il sistema di gioco, anche perché questa squadra ha chiuso il primo ciclo, l'ultima partita dell'8 marzo con il 4-4-2 e ha demolito il Pescara senza accusare minimamente la variazione di sistema di gioco. Ecco, però in questo caso da cosa dipenderà la scelta per domani? Dagli uomini come le fa sempre oppure ci sarà qualche altra variabile? No, no, sapete che non do grande importanza ai moduli, sono contento che la mia squadra comunque in questi mesi abbia recepito il fatto di poter giocare indifferentemente con 4-3-2-1, con 4-4-2. È chiaro che mancando viola devo fare certi tipi di ragionamento, perché sicuramente in prota giocherà, è un giocatore che sta molto bene, si è sempre allenato, questo peserà, quelli che ci saranno sempre allenati avranno la priorità domani e quando c'è dentro in prota posso giocare anche 4-4-2. Vedrò, li ho preparati tutti e due, li fanno bene secondo me entrambi e ho gara iniziata, ho gara in corsa, so che potremmo anche cambiare il sistema. Salve mister, ben trovato. Come se l'aspetto, lo so che lei guarda relativamente all'avversario, però avendo visto tutti la partita di Ascoli, ha giocato una partita completamente diversa da quella che erano le partite della Cremonese. Una difesa bloccata, centrocampo abbastanza manoviero e subito sulle fasce laterali, le due ali per i contropiedi. Si aspetta che faccia la stessa cosa anche in casa, anche perché casa o fuori casa, ormai senza pubblico, credo sia la stessa cosa. Ma io penso che ormai abbiamo capito in questi anni che non c'è un modo di calcio che legge e che ti fa vincere le partite. Ognuno deve fare il calcio a cui crede maggiormente per trasferirlo alla squadra. Penso che Bisoli non cambierà molto il tuo atteggiamento giustamente. Ha vinto due partite, ha vinto a Frosinone, per cui ha dei giocatori velocissimi, perché Parigini, Palombi, Piccolo, quando ripartono sono devastanti. Ha mezzali di inserimento come Valzania, Arini e poi chi potrà giocare, che sono molto pericolosi in zona gol. Ha un centravanti come Ciofani e si può tenere il lusso di tenersi in panchina Ceravolo e Selar. Sappiamo quello che affronteremo, ma a me e degli altri mi interessa poco. Noi dovremmo fare la partita, come abbiamo sempre fatto, comandare il gioco, cercare di migliorare ancora di più dal punto di vista del gioco, lottare su ogni pallone, poi si vince giocando bene, si vince combattendo su ogni palla. Noi dovremmo essere il mix che siamo stati fino alla sosta. Non so se saremo subito pronti, ma piano piano, adesso in otto giorni avremo tre partite, ci sarà spazio per tutti e sono curioso anche io di rivedere i miei giocatori. È chiaro che domani abbiamo anche un record incredibile che ci giochiamo in trasferta, dove abbiamo fatto qualcosa di straordinario, perché vincere così tante partite fuori casa, non perdiamo da 19 partite, per cui vorrei continuare. Abbiamo preso solo 15 gol, c'è la migliore difesa d'Europa, abbiamo troppi stimoli e troppe cose da difendere, da tenerci strette, per cui sono sicuro che l'atteggiamento sarà quello giusto. Poi giochiamo contro una squadra forte, ci sono anche gli avversari e vedremo quello che ci dirà il campo. A proposito delle cinque sostituzioni, visto che bene o male tutti hanno utilizzato appunto questo nuovo modo di gestire, lei pensa di poterle utilizzare tutti? Cioè, conta di utilizzarli tutti? Sicuramente, sicuramente la mia intenzione è quella di utilizzarli tutti, perché i giocatori non possono avere i 90 minuti nelle gambe, è impensabile. Dovrò cercare di capire quali sono i cinque che possono terminare la partita, che saranno quelli sicuramente che si sono allenati di più e dovrò cercare di alternare quei cinque che magari hanno una condizione minore e far entrare quelli che hanno avuto qualche allenamento in meno. Per cui è tutto un ragionamento che dovrò cercare di fare, è una novità per tutti, però oggi, insomma, vedendo i giocatori che potrebbero andare in panchina da noi, avere i cinque cambi in questo momento della stagione, per me è molto importante. Non sono molto favorevole al fatto di cinque cambi, perché secondo me sono un po' troppi, però in questo momento penso che sia giusto averceli, perché, insomma, noi ci alleniamo da meno di un mese e non possiamo avere la condizione ottimale, avere i cinque cambi può essere un vantaggio, soprattutto per gli infortuni, perché poi abbiamo visto in Germania, abbiamo visto Lascoli, la prima partita, non so se ha perso subito nel primo tempo alcuni giocatori. Questo dobbiamo mettere in preventivo, speriamo di aver lavorato nel modo giusto e avere meno infortuni possibili durante la gara. Roberto Corrado, cronaca del Zambio. Mister, buongiorno, ben trovato. Poco fa, dando uno sguardo rapido all'elenco dei convocati, ho notato le assenze di Gianfi, Teglio e Vokic. No? Anche Teio c'è. Cioè Vokic sta proseguendo nel recupero, speriamo di recuperarlo più presto. No, Teio e Gianfi. Ci sono sia Gianfi che Teio. Luca Maio, Gazzetta dello Sport. Buongiorno mister, volevo chiedervi l'esperienza umana che hai vissuto in questi mesi di quarantena. Sei rimasto a Benevento, tu che sei originario di Piacenza che era uno dei posti dove il virus è stato più forte. E poi, anche la questione dei tifosi che tante polemiche ha suscitato dopo la vittoria del Napoli. Siccome incrociamo le dita, facciamo gli scongiuri, ma a breve termine potrebbe capitare a noi i tifosi del Benevento che devono fare quando succederà che abbiamo centrato l'obiettivo? Secondo me bisogna festeggiare con le giuste precauzioni che ci hanno detto. andare a festeggiare con la mascherina penso che si possa fare al di là di tutto. Ma io mi auguro come dicevo che visto che insomma si è trovata la soluzione per poter aprire i cinema, i teatri, i parchi acquatici, si apriranno le discoteche, penso che è giusto e sono convinto che si troverà la soluzione per riportare almeno un po' di gente allo stadio. Perché lo stadio è all'aperto e con la mascherina con le giuste distanze. Insomma, anche avere quei 4-5 mila spettatori al vigolito potrebbe essere importante per i miei giocatori, per noi, perché ci aggiungiamo a festeggiare e speriamo presto una cosa straordinaria che abbiamo fatto. Per cui la gente penso che sia giusto che festeggi, mantenendo sempre sicuramente un certo ordine. Massimiliano Govà. Ah, sì, sì. L'esperienza umana in quei momenti è chiaro che ero preoccupato per i miei genitori e per la gente che conosco, tanti amici. Insomma, lì sono stati molto provati. Insomma, io chiaramente festeggerò, vedrò finalmente i miei genitori che non ho ancora visto, che ho sempre sentito. Insomma, mi verranno a trovare perché purtroppo non potrò andarne anche a casa perché lunedì ci alleneremo e anche se potevo magari chiedere un permesso visto che non ho mai visto i miei genitori. Insomma, mi conoscete e ci tengo a star con la squadra. Venerdì rigiocheremo. Per cui stasera vedrò i miei genitori e li abbraccerò e mi farà piacere. È chiaro che lì sono posti Cremona, Piacenza, Bergamo, Brescia, Milano che sono stati toccati in modo incredibile. Speriamo che il nostro inizio sia un motivo di speranza anche per tutta questa gente che ha sofferto per rivedere la luce perché insomma dopo, speriamo, dopo un momento buio insomma torna sempre il sole. Massimiliano Mogamero, Il Sannio. Buongiorno mister. Ecco alla luce di quello che diceva prima domani si andrà a giocare a Cremona che è una delle città più colpite dall'emergenza sanitaria. Che effetto le farà la cremonese scendere in campo con una maglia speciale dedicata alle vittime del Covid? Se questo potrà in qualche modo condizionare l'ambiente o invece all'inizio della partita dovete cercare di mettervi tutto alle spalle e pensare esclusivamente al campo? Ma il calcio ci deve dare questa opportunità di lasciarci tutto alle spalle non dimenticando che ci serva da lezione ma deve essere una speranza per tutti noi per poter ripartire per cui questo è il messaggio più bello che ci sarà. Io sono convinto che poi quando si andrà in campo si penserà a giocare lealmente cercando e sapendo che tanta gente ci guarda e che tanta gente è felice di rivederci correre e di rivedere e di ritifare per noi per cui questo deve essere il nostro unico pensiero. Claudio Donato NCR24 Salve mister ben ritrovato le volevo chiedere in queste partite in attesa di vedere che condizione atletica restituirà la squadra il campo quanto è importante puntare sulla condizione diciamo oppure sullo spunto di un singolo o su un calcio inattivo per risolvere a proprio favore queste gare? Noi cerchiamo di preparare tutto come lo fanno gli altri penso che sarà tutto tutto determinante io come ho detto prima mi auguro che i nostri stimoli il fatto di essere vicini ha un traguardo importantissimo il fatto di avere fatto dei record ma di avere tanti record in ballo insomma quando io sento parlare della Juve di De Champes e penso ai giocatori che aveva veramente penso ai miei giocatori e penso come possono essere orgogliosi di essere accostati insomma a Treseghè a Del Piero a Chiellini a Nedved e pensare di aver fatto meglio di loro fino a questo momento è qualcosa che ci deve dare una carica pazzesca quello che non ha le gambe in questo momento ce lo deve dare la testa gli stimoli per cui vedremo come voi sono curioso di rivederli anche se li ho trovati come sempre molto attenti e molto ligi al lavoro Francesco Carlucci Antiprima24 Buongiorno mister si è parlato tanto di un calcio diverso dopo il lockdown dopo la pausa lei che calcio ha trovato rivedendo appunto queste partite che si sono giocate in Italia? Ma io ho trovato devo dire una buona condizione è chiaro che le squadre sai le squadre di Serie A anche insomma se ieri lo Spezia e Empoli non ho potuto vederlo poi giocavano alle 5 e mezza faceva tanto caldo quello che troveremo noi domani però le squadre di A sicuramente hanno avuto qualche settimana in più e le ho già trovate a buon punto sono curioso anch'io insomma di vedere noi la Serie B abbiamo incominciato dopo per cui abbiamo avuto meno tempo però siamo tutti sulla stessa barca siamo tutti alla stessa alla stessa curiosità e agli stessi dubbi per cui alla fine insomma penso che dopo nessuno di noi dovrà accampare scuse vedremo vedremo è tutto nuovo sia per me per i miei preparatori per i giocatori perché sono stati tre mesi a casa hanno lavorato ma un conto insomma d'estate ti fermi 30 giorni ogni giorno giochi magari a a tennis giochi a beach volley ti muovi sulla spiaggia sono stati tre mesi in casa per cui sicuramente hanno perso molta forza nelle gambe e dopo quando vai in campo è come quando riscendo in campo io dopo 10-15 anni che voglio fare le cose come facevo quando avevo 20 anni mi faccio male per cui perché la testa ti spinge ad andare come quando c'hai forza ma in questo momento devi far conto che magari non puoi essere al 100% a livello muscolare però vediamo quello che insomma ci aspetta domani ultima domanda Luigi Truso allora mister mi sembra aver capito che c'è comunque qualche ballottaggio nell'aria mi viene da pensare a tui a volte in difese a crag all'insigne sulla destra forse perché mi pare che anche insigne non è stato benissimo nel corso degli ultimi giorni e ancora qualche dubbio relativamente alla formazione sì sì molti dovrò valutare proprio questo insomma se c'è qualche sorpresa no no sorpresa sono sempre i soliti ballottaggi è chiaro che questi ballottaggi di solito venivano risolti in base al tipo di partita che pensavo di fare e cambi che in questo momento questi tipi di ballottaggi verranno risolti in base a come si sono allenati e in base a quelli che penso che abbiano i 60 minuti e quelli che abbiano i 30 per cui potrebbe magari esserci qualche sorpresa ma sempre nel ruolo sempre in quei giocatori che comunque ci hanno fatto ottenere questi risultati e quindi Grazie.